Musica Lei è stata una reclusa volontaria per 28 anni nel carcere di San Vittore. Io credo che anche questo, proporre una santità gioiosa, sia molto attuale. C'è bisogno di positivo, c'è bisogno di bellezza, c'è bisogno di bontà, di verità, di giustizia. E Suora Enrichetta ha seguito questa strada. Maria Angela Domenica Alfieri, che diventerà Suora Enrichetta perché è di lei che stiamo parlando, nasce a Borgo Vercelli il 23 febbraio 1891. Già il compiere dei Vientanni è postulante tra le suore della carità di Santa Giovanna Antida Touré. Il 25 marzo del 1913 veste l'abito religioso. Nel 1919 viene colpita dal morbo di Pot e portata a Lourdes. Il 5 febbraio 1923 riceve l'estremunzione per le gravi condizioni, ma 20 giorni dopo beve l'acqua di Lourdes e si riprende miracolosamente. Il 24 maggio, sempre del 1923, entra per la prima volta nel carcere di San Vittore. Il 26 marzo 1928 emette i voti perpetui. Seguono gli anni della dittatura, del fascismo, del nazifascismo a Milano. Per Suora Enrichetta, anni di resistenza. Inizia a essere detta l'angelo di San Vittore. Essa stessa è incarcerata per la sua coraggiosa attività. È una donna che viene riconosciuta come mamma e angelo di San Vittore. Quindi questo significa che la sua umanità si incarna in una tenerezza squisitamente femminile che scalda l'ambiente del carcere, che lo illumina. Muore il 23 novembre 1951. Al suo funerale centinaia e centinaia di persone che continueranno a renderle omaggio nei giorni successivi. Era nato poverissimo, ma era anche intelligente e soprattutto buono, con una fede grande e generosa. Per questo parliamo ancora oggi di quel bambino, battezzato Giuseppe Domenico Serafino Morazzone. Nato nel centrale popolosissimo quartiere del Broletto, nel cuore di Milano, il primo febbraio 1747. Parroco per 49 anni, proclamato nuovo beato della nostra diocesi il 26 giugno prossimo. E tutta la sua vita potremmo sintetizzarla così. La vocazione è precocissima l'essere prete tra la gente e con la gente nella parrocchia di Santa Maria Assunta in chiuso, l'unica della sua esistenza, per la quale vinse in concorso davanti al cardinale Giuseppe Pozzobonelli, ancora prima di diventare sacerdote, il 23 marzo 1773. Poi il 9 maggio dello stesso anno l'ordinazione presbiterale, il giorno successivo la prima messa, nell'oratorio San Giovanni Battista in chiuso e l'ingresso nella parrocchia del paesino lecchese. Il quasi mezzo secolo che segue, fino alla morte avvenuta il 13 aprile 1822, sono semplicemente, se così si può dire, gli anni di un prete santo, come già lo definivano i suoi parrucchiani, contemporanei. Ma quanti ancora in paese portano il nome anche oggi di Serafino? Anni attraversati con la preghiera, l'impegno per i giovani e la predicazione, la celebrazione dei sacramenti, l'amore per il popolo di Dio. Tanto che già nel 1856 si comincia a parlare di processo di beatificazione, in una parola come scrisse il cardinal Schuster, che credeva profondamente nel significato dell'esempio del parroco di chiuso e della sua causa di canonizzazione, infatti ne riprese l'iter, un novello curato d'Ars. Ne era convinto anche il Manzoni, che delineò la figura del Morazzone nella prima stesura dei Promessi Sposi. Ma questa è un'altra storia. Ma forse la definizione più bella, e anche il segreto della passione pastorale di Don Serafino, è l'essere, come ha ricordato il cardinale Tettamanzi, in una sua omelia, chiuso il 13 aprile 2008, uomo di incessante preghiera, sempre e comunque. Padre Clemente Vismara nasce il 6 settembre 1897 ad Agrate Brianza. A otto anni è già orfano di entrambi i genitori. Nel 13 entra nel seminario arcivescovile di San Pietro Martire a Seviso. Il 21 settembre 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, è chiamato alle armi, mandato in prima linea, con l'ottantesimo reggimento fanteria. Si congeda nel 19 con il grado di sergente maggiore. Ripresi gli studi a Milano, nel seminario Lombardo per le missioni estere, il futuro Pime, Clemente viene ordinato sacerdote il 26 maggio 1923. Subito dopo parte per la Birmania. Il 27 ottobre 1924 fonda la nuova missione di Monglin. La povertà è grande, il cibo misero è del tutto insufficiente, le malattie tropicali, decimani missionari. Tanto che nel 1931 Vismara rimane solo. Si trasforma lui stesso in agricoltore e muratore. Prosegue nella fondazione di missioni nella zona. Il suo obiettivo sono soprattutto gli orfani, i ragazzi abbandonati o venduti dai genitori. Nel giugno del 1941, mentre i giapponesi progettano di occupare la Birmania, Clemente è internato dagli inglesi a Calò. Nel dopoguerra, i missionari sono vittime della lotta civile. Tuttavia, nei primi 31 anni di missione, padre Clemente trasforma Monglin in una cittadina cristiana, con circa 4.000 battezzati. Gli anni che seguono sono un susseguirsi di difficoltà e progressi. Nel gennaio 1955, padre Clemente viene trasferito a sorpresa dal vescovo a Mongping, in un luogo più salubre, ma nel quale occorre rincominciare tutto da zero. Negli anni 60 riesce adottare Mongping delle strutture necessarie, l'orfanotrofio, la scuola, la chiesa con la grotta di Lourdes, le case per missionari e suore. Preziosissime accanto a padre Clemente nella vita pastorale e per quanto attiene alle attività educative e alla promozione della donna, le suore di Maria Bambina. Nel periodo successivo al Concilio Vaticano II, la chiesa birmana viene affidata in larga parte anche a causa dell'isolamento al clero locale. Il 15 giugno 1988, padre Clemente Bismara muore a Mongping, sereno, all'età di 91 anni. Ai suoi funerali partecipano anche numerosi buddhisti e musulmani. E la fede che vive è una festa anzitutto di popolo, quella gente che i tre nuovi beati ambrosiani, solennemente elevati agli onori degli altari in piazza del Duomo, prediligevano. Mondi e realtà diverse così si incontrano in una giornata piena di sole, davanti alla cattedrale, bellissima e che sfolgora di luce. Ai cui piedi arrivano in cardinali Tettamanzi e Amato, prefetto della congregazione per le cause dei Santi, rappresentante del pontefice. Presiedono l'uno alla celebrazione eucaristica, il secondo il rito proprio della beatificazione. Hanno accanto 56 vescovi, più di 300 sacerdoti concelebranti, ma soprattutto oltre 8.000 fedeli, che applaudono quando le immagini di suore Enrichetta Alfieri, don Serafino Morazzone, padre Clemente Bismara, Santi per vocazione, esemplari, vengono svelati sulla loggia centrale del Duomo. E allora si ripercorrono le vite dei tre beati, si ascoltano le parole che ci hanno lasciato in eredità sulle loro esperienze. Viene pronunciata in latino la formula di beatificazione. E tutta la piazza ascolta in un silenzio irreale le esperienze insieme straordinarie quotidiane di suore Enrichetta, l'angelo di San Vittore, suore della carità e quante le consorelle, ma anche i rappresentanti delle carceri presenti, di padre Bismara, patriarca della Birmania, e arrivato dall'attuale Myanmar, anche chi ne è stato miracolato e tanti, tantissimi missionari del Pime, di Don Morazzone, beato parroco di Chiuso, paese delle chiese sceso in forza a Milano. La grazia sorprendente dell'Eucaristia, l'amore gratuito di Dio, che non cessa di farsi dono, continua ad esercitare una misteriosa forza d'attrazione anche in un mondo, come il nostro, apparentemente distratto e indifferente, ma in realtà assetato di riconciliazione e di unità, bisognoso di quella carità semplice e concreta che sa trasfigurare la normalità del quotidiano nella piccolezza di un sorriso, di un gesto di amicizia, di una parola di consolazione. La vita, come diceva Padre Vismara, è radiosa dal momento in cui si comincia a donarla. La vita è bella quando ci si vuol bene. Solo l'amore fa vincere la vita. Da qui l'auspicio, l'augurio e la speranza del Cardinale. Intercedete ora per noi, Beato Serafino, Beata Enrichetta e Beato Clemente, perché sappiamo accogliere le parole di Gesù e farle nostre, perché possiamo crescere in quella grandezza della piccolezza evangelica che l'allora arcivesco di Milano Giovanni Battista Montini riferiva efficacemente a don Serafino Morazzone. Sì, questa espressione, grandezza della piccolezza evangelica, trova oggi la sua conferma ecclesiale anche per gli altri nostri beati. Insieme alla certezza, sono ancora parole del futuro Paolo VI, che il Signore sta con i poveri, con i poveri di cuore, con gli umili e soprattutto con chi ama e sa donare. Amo. Poi ancora i canti, la presentazione dei doni all'altare, tra coloro che li portano, anche dei detenuti. Il saluto del Cardinale Amato. Quando parlano di carità i nostri beati, non spacciano moneta falsa. Sulla loro bocca la parola amore ha la risonanza autentica di chi spende l'esistenza per costruire giorno dopo giorno una società più buona e umana. I nostri tre beati non esibiscono la loro bontà, ma la esercitano con umiltà e nell'oscurità. È una lezione di vita da riscoprire da parte di tutti noi che siamo come intorpiditi sotto i falsi slogan di un ambiente fatuo che spesso esalta la trasgressione ed erida invece chi nella famiglia e nella società costruisce nella gioia e nel dolore e nella fatica l'autentico futuro della nostra società con un'autentica esistenza di onestà e di amore fondata sui comandamenti di Dio e sulle beatitudini evangeliche. E infine tra gli applausi crescenti il collegamento con l'Angelus del Papa. Questa Milano meravigliosa che abbiamo visto oggi? È la Milano meravigliosa che si trova in tantissime persone semplici, umili che noi di solito non vediamo ma che in realtà portano un sole di dentro e il sole di dentro è l'amore del Signore che giunge a loro e non lo trattengono ne usufruiscono nel senso che diventa l'anima della loro vita ma poi lo distribuiscono agli altri attraverso una vita di attenzione, di sensibilità di aiuto, di condivisione con le difficoltà, i problemi le prove che accompagnano la vita di tutti e di ciascuno. È un giorno di speranza una speranza che ci fa spalancare gli occhi e ci fa vedere insieme purtroppo alla presenza del male finalmente alla presenza di un sole che non si stanca di illuminare le menti, i cuori, i sentimenti, i gesti anche quelli più piccoli ma incisivi della vita di tante persone e sono un bene prezioso per una Chiesa che il Signore vuole santa e attraverso il suo spirito la rende tale ma sono un bene prezioso anche per la società perché è richiamato in questo modo a credere ai valori più belli più significativi, più importanti della vita che sono appunto i valori dell'amore, della disponibilità agli altri della generosità nello spenderci davvero con gioia, con sorriso in maniera così semplice, semplice ma convinta perché questo è il cuore del Vangelo perché a sua volta è il cuore addirittura del Signore Gesù in mezzo a noi. La Chiesa è unica in Egitto in Italia, dappertutto siamo figli di Dio e di Cristo Dall'altra parte del mondo, dall'Argentina invece Guarda, oggi questa mattina quando mi sono alzata una delle cose forti che ho sentito riguardando questa hermosa umanità che siamo oggi tutti insieme che la santità oggi è possibile È un momento importantissimo perché si restituisce e soprattutto si dà un senso a chi si è impegnato per il bene di tutti ed è importante che in queste situazioni ci sia la presenza della Milano intera per applaudire a chi ha dato il suo impegno per la città, per il mondo per un mondo migliore Io credo che il nostro sia un territorio che nella sua storia di tanti secoli ha sempre avuto la ricchezza di offrire esempi di vita e anche di vita cristiana straordinari e quindi non è un caso che oggi siamo qui a ricordare, onorare tre personaggi che hanno dato nella loro vita esempi straordinari di amore verso gli altri non è un fatto così rituale a Milano e di questo ringraziamo Dio Che momento stiamo vivendo? Ma un momento più grande della Chiesa di Milano perché tre beati in un giorno solo sono il segno di una Chiesa che è viva e che deve lanciarsi nel futuro sul loro esempio perché loro sono stati esempi anche di un farsi prossimo modernissimo Esatto la ringrazio di questa cosa perché credo sia la caratteristica fondamentale due uomini una donna capaci di essere attualissimi perché hanno scelto di servire il loro prossimo più bisognoso per un amore infinito di Dio Insomma la Chiesa di Milano c'è sempre sulle frontiere della povertà degli ultimi della disperazione che si sia in mezzo all'abrianza per tutta la vita che si vada addirittura in Birmania Esatto questa Chiesa che un anno e mezzo fa beatificavamo Don Carlo Gnocchi un'altra forma di carità la carità di Padre Clemente appunto come diceva lei nelle foreste della Birmania c'è qui anche il ragazzo miracolato un ragazzo un orfanello che appunto si è salvato per questo Sua Enrichetta la carità nelle carceri la carità del silenzio delle chiese Qual è l'esempio in questo momento di beati che però sono stati così reali nella vita concreta vicino agli altri? Beh possiamo io prendo questo spunto il Don Serafino che poi è della mia città è citato nel Fermo Lucia di Manzoni quindi un romanzo che si dice è il romanzo degli umili ecco io penso che questi tre beati possano essere letti proprio sotto questo profilo un'attenzione particolare agli umili condizioni molto diverse evidentemente una piccola parrocchia di paese un mondo intero come è stato la Birmania Myanmar oggi per Padre Vismara il mondo concentrazionario del carcere ma in tutti questi tre casi l'attenzione alla fragilità della persona mi sembra possa essere la nota caratteristica c'è un piccolo paese chiuso ma con un grande beato ma la prova è il fatto che da 200 anni questa comunità in un certo senso aspetta questo momento questo per dire il legame molto intenso forse rispetto agli altri santi è caratterizzato molto più da una dimensione religiosa da una dimensione di rapporto intimo con le persone ma è ancora più importante oggi che dopo 200 anni che la gente lo vive già da beato e le assicuro che ha chiuso è così realmente non è un modo di dire così retorico di questi giorni di queste ore questo evento è un evento che ha toccato molto la comunità e l'indicazione che ci viene penso anche per la comunità civile è quella che talvolta ci sono delle risorse nascoste che in umiltà come ha fatto il beato Serafino tengono alta una dimensione che è quella dell'approfondimento delle ragioni di fondo del nostro vivere questo non è un patrimonio solo dei credenti è un patrimonio penso di tutte le persone perché quando si è ascoltati quando si è accolti quando ci si pone delle domande già la santità ha fatto come dire un'operazione che è utile a tutti cioè quella di non vivere banalmente la nostra quotidianità la figura del beato parroco di Chiuso il parroco di Chiuso era un parroco veramente con delle doti particolari il principale era umile e di cuore e buono la sua missione nel ragione di Chiuso è stata così incisa e profonda che i parrocchiani quando si sono trovati che era vicino alla perdita di questo parroco si sono disperati si può dire tanto è vero che al suo diciamo sentire che suonare campane per la sua dipartita si sono portati tutti alla canonica poi in quei giorni è stato un accorrere diciamo di gente da tutte le parti particolarmente quelli del posto tanto è vero che per avere un ricordo ci sono chi prendeva un panciocchio di capelli chi un pezzo di veste talare tanto che hanno dovuto per due volte rivestirlo la sua vita come parroco lui disse appunto che era vissuto da giovane come da povero e continuavo appunto ed ero orgoglioso di poter continuare questo senso di povertà come Gesù ha fatto nel suo cammino eccellenza un grande momento di amicizia fra la chiesa di Myanmar e la nostra chiesa di Milano la chiesa mondiale naturalmente sono state raccolte anche le offerte per i terremotati del vostro paese prima di tutto vogliono usare questo sostegno per i malati più bisognosi tramite il terremoto per le persone più bisognose questo è il primo e il secondo per loro costruire per loro abitare perché possono abitare e poi anche dare formazione come loro ricostruire questo prima le persone e il secondo quella formazione e il terzo costruire per loro case grazie grazie a tanti qual è stato questo miracolo? è stato guarito dalla preghiera che è caduto dall'albero lui già in coma all'ospitale il dottore già ha abbandonato lui di portarlo a casa allora abbiamo pregato continuavamo a fare una preghiera Clemente e Vismara per quattro giorni che si svegliava per chiedere l'acqua veramente è già in coma per quattro giorni e poi è guarito e poi è guarito e dopo dopo un mese abbiamo portato nella nostra comunità ora è questo e questo bel ragazzo e per vivere questa festa per testimoniare a tutti noi Dio che ha ascoltato la nostra preghiera signor sindaco qual è il ricordo nella città che amministra di una figura straordinaria come padre Vismara noi come generazione l'abbiamo conosciuto soprattutto tramite i suoi scritti però come ho già detto in altre occasioni l'abbiamo sempre sentito presente nella nostra comunità tutti i giorni come magari pensare di incontrarlo fuori dalla messa domenicale in piazza ci ha sempre trasmesso una grande gioia una grande serenità una grande fiducia nella provvidenza è stato un grande educatore un missionario ordinario e straordinario che ha avuto il grande dono di saper scrivere e comunicare agli altri con questo suo dono con questa sua capacità tutto quello che sentiva nel proprio cuore Qual è la sua esperienza forse non è bellissimo dire miracolata diciamo con lei che è stata amata la sua enricchetta e dal signore naturalmente oggi provo una gioia immensa essere qua in piazza Duomo anche perché l'abbiamo sperato e l'abbiamo atteso veramente tanto io ringrazierò sempre la sua enricchetta fino alla fine della mia vita perché se oggi sono qua è grazie a lei perché perché nel 93 quando avevo 18 anni mi era stato diagnosticato un tumore inoperabile e mi avevano dato 8 giorni di vita massimo con l'intervento di una mia zia suora amabile suora della carità come suora enricchetta c'è stato un divulgarsi di preghiere per me attraverso l'intercessione di suora enricchetta hanno chiesto la grazia la mia guarigione mi è stata posata un'immaginetta di suora enricchetta che era appena stata passata sul suo corpo e mi è stata posata sull'addome nel giro questo a fine gennaio l'11 di febbraio mi hanno fatto un'attacca il tumore era regredito del 70% quindi io ero guarita e oggi? e oggi sono qui a dire il mio grazie suora enricchetta anche con la mia famiglia perché mi avevano detto che non avrei potuto avere figli e invece sono qua con uno splendido marito e con due splendidi figli Anna di 9 anni e Davide di 3 ringrazierò sempre suora enricchetta mi ha molto colpito l'ultima intervista che Maika ha fatto proprio parlando di suora enricchetta che io non avevo mai visto me l'hanno fatta vedere le suore mi ha commosso tantissimo e lui era proprio molto coinvolto lassù ci stanno guardando sia suo marito che suora enricchetta infatti oggi loro sono insieme e io mi sento più vicina oggi il carcere di San Vittore è un carcere multiculturale multiraziale ma c'è ancora bisogno di una parola di aiuto e di speranza indipendentemente dalla fede che si professa credo ancora di più e d'altronde nonostante che è previsto il sacerdote dall'interno è diventato anche lui centro catalizzatore per professare la propria fede anche se si è di un'altra religione suora enricchetta persino ha un luogo dove ospitare i piccoli delle detenute i bambini appena nati e di pochi mesi questo poi addirittura è stata un'idea che è giunta maturazione molti anni decenni dopo e sarà stata una visione profetica perché poi appunto una quarantina ma da anni dopo riuscimmo a portare fuori i bambini da San Vittorio e a portarli all'ICAM che è la prima struttura europea che prevede le matri con i propri figli e che addirittura è stata protoma di una legge che è stata varata recentemente il messaggio di suora Enricchetta continua al punto che alcune brigatiste sono state aiutate da vostre suore che erano a Re Bibbia sì negli anni 80 noi abbiamo avuto delle suore che hanno lavorato in Re Bibbia ma abbiamo in particolare la testimonianza di una suora che ha anche scritto un diario su questo molto segreto lei l'ha voluto bruciare in questi giorni noi abbiamo voluto rispettare questo suo desiderio ma le dico che è stata un'esperienza bellissima perché lei questa suora ha accompagnato umanamente queste signore queste queste diciamo donne che hanno scelto hanno fatto delle scelte differenti però con lei sono arrivata alla dissociazione erano brigatiste erano brigatiste sì brigatiste anche abbastanza conosciute lei è un sacerdote suore Enrichetta una suora qual è il senso che portate all'interno di questo mondo anche di dolore la presenza il lavoro di suore Enrichetta è sempre stato un messaggio una presenza di grande speranza in un luogo dove si dispera la speranza è proprio come l'aria l'acqua che si beve ogni giorno ce n'è una necessità radicale incredibile viscerale suore Enrichetta con il suo sorriso con il suo volto i detenuti hanno detto che volto sveglio che bella donna che volto forte lei passava volava tra una cella e l'altra incontrando i volti e facendosi rapire sequestrare dai volti facendo del bene facendo del bene promuovendo il bene proprio là dove c'è tristezza angoscia dove c'è il male dove c'è la pena dove c'è la bruttura la disumanità lì c'è volontà di bene c'è voglia desiderio sete fame di bene bene che vuol dire amore attenzione all'altro bene che vuol dire anche una giustizia che promuove la dignità della persona non semplicemente la calpesta la soffoca la rinchiude ma invece la promuove Eminenza il significato di questa giornata meravigliosa di sole non solo meteorologico sì è il sole della carità che da Dio Trinità si diffonde su tutti i fedeli su tutti i battezzati e soprattutto su questi eroi della santità che sono questi nostri tre beati Don Serafino Padre Clemente e Suonore Richetta che sono tre raggi della grande santità di nostro Signore Gesù Cristo e di Dio Trinità Santissima una città spesso si dice secolarizzata come Milano ha bisogno di grandi esempi esempi anche preveggenti nella loro opera credo di sì però io credo che non bisogna guardare Milano con gli occhi come dire dei mass media che molte volte sono molto superficiali la vera Milano è questa la Milano del bene della carità della bontà che si costruisce ogni giorno in famiglia e in società se voi vedeste il bene che si fa a Milano da parte dei semplici fedeli da parte dei sacerdoti da parte delle suore voi sareste meravigliati di quanto bene c'è a Milano quindi scremiamo la superficialità e andiamo a vedere la vera Milano l'altra Milano che non viene esibita ma che è presente ed è quella che costruisce il bene della vostra città grazie a tutti 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 di cultura e attualità religiosa. Sul numero di luglio. Israele, gli alberi oltre il muro.